Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono ThePoker e oggi siamo nel terzo episodio della Vanilla con FoxySuper No, guarda No, senza provamento Ok, oggi in questo episodio finiremo, si spera Finiremo la casa No, finiremo, punto La casa Allora La casa è arrivata a questo punto Più tardi Allora Per ora Siamo arrivati a questo punto Il primo piano manca solo il pavimento E i vetri E il secondo episodio mancano solo i vetri Ma tra, vai a prenderla sabbia intanto che io faccio il pavimento Mmm, ok Faccio una pala e vado Quando è finito il pavimento? Se io sono ancora via Cioè se io sto prendendo ancora la sabbia Cerca del Del ferro Perché ci serve Fidati Primo perché se no non possiamo andare avanti con niente Solo condividiamo il ferro, eh Sì, sì Io vado a prenderla sabbia 4-4 Sì, poi quello che resta 2 Facciamo Un secchio Cioè se ne troviamo 9 Infatti Non divesse perché era una spada No, no In realtà No, no No, no Non ci facciamo niente Perché dobbiamo aspettare Prima Perché la spada Cioè Preferirebbe No No, no Non tornerò a sentire Ho fatto la cavola No, non è vero 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 ed è morta ti immagini che manca fin via per il culo non niente ragazzi non possiamo cambiare discorso non vuoi avere una risposta possiamo cambiare discorso ok dove sei? ti ho lasciato al primo piano delle torce prendi prendici le torce e stai va bene le torce e stai fatti ti ho lasciato le torce su lì dentro sotto di noi c'è degli zombie quindi c'è una caverna ma proprio bella bella madonna quanta gente che c'è giù mi sento dei casini molesti intanto io in realtà potrei iniziare a fare la cantina io però non lo conosco guarda diciamo che ho fatto la tappa io sopra le botole adesso aspetta scoperto 4 botole sono precisi ecco inizio ok c'è una caverna c'è tipo una mega caverna sotto di noi sotto la nostra casa vieni da me senti senti che versi si sentono vieni io sto scavando che questa potrebbe essere l'inizio dei nostri futuri scavi e infatti c'è la caverna è un canyon è un canyon si l'ho trovata fate che sto via pappagalli di qua non è un vostro serva l'ho trovata si l'abbiamo trovata ragazzi arrivo arrivo andiamo a dormire poi vado a spru... arrivo arrivo vai in casa ok io eccomi eccomi cribio bravo dai dormi muoviti dormi 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 mi sono distrutto no ci hanno distrutto tutta casa non ma ci hanno distrutto tutta casa no non ci hanno distrutto tutta casa non ci hanno distrutto tutta casa no no cribio no 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 2 e' destino mai chiamare bro c'è uno scheletro 2 ho due di vita io ho due col brù 2 adesso 2 dai ma tutto eh meno male che ne avevo preso un altro ma intanto la sabbia sta cuocendo vero intanto la sabbia cuoce va anche 9 9 io vado giù in caverna che ho visto il ferro prendo la sabbia, cos'è che ti serve? il legno c'era un po' nella cesta non c'è niente dentro la cesta cioè c'è un po' di roba ma il legno l'ho usato per fare i bastoncini no ma non ci credo c'è la labislazuli ma è una caverna ricoperta d'acqua quindi c'è un bot di roba ma è sotto cioè c'è un bot di roba ma è sotto l'acqua perché che figo quella labislazuli mi serve lascio tutto in cassa io in pratica è una caverna piena d'acqua quindi c'è la roba sommersa e ho trovato la labislazuli questa me la prendo adesso ok dimmi quando arrivi tanto c'è anche dei mob faccio piccone adesso quindi non è finita quella caverna non c'è anche altrove io ho preso un sacco di un po' di labislazuli sto esplorando un po' gli abissi ok sto esplorando un po' gli abissi ok c'è del ferro si è solo no in realtà non lo so perché è sotto qua vabbè ma non muore soffocata eh c'è un problema non riesco a prenderla ma perchè è proprio se che mi erano aspetta viene aiutarmi si si arrivo c'è qua è controcorrente ma è tanto mi casa sta cercando il tuo aiuto muori cacchio muoio vai 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 dai dove stavo costruendo dai no sta soffocat dai no more I'm dying Oh ma tu ti stacca qua? C'è un'altra... Ah ma c'è il mare...ok Si è veni da me? No ce li ha negati Non devi dare Quella che sei Ok e dove c'è un botto di ferro vieni Torno da te Vieni No sto morendo Torno da te Vieni qua giù Vieni qua giù Vieni Qua? Dove? Qua c'è un botto di ferro Sotto qua Solo che non riesco a prendere perchè con l'acqua C'è cosa Intanto salgo per vedere dove siamo spumati Ah ma è la caverna di casa nostra Sopri su c'è casa nostra Sotto ce li ha negati quindi Qua c'è un botto di ferro anche Ma tipo c'è diamanti ma è sotto No non sto morendo No non sto morendo E' impossibile prendere però Niente allora lasciamo di qua e andiamoci Vieni qua E' una domanda l'ultima volta aspetta No dovrei salire a questa maniera No vabbè fa niente a lei andiamo su Cavolo sarebbe stato utilissimo quel ferro Vabbè in cinque minuti per prendere la ca Eh niente senza questo non possiamo fare niente Vabbè abbiamo fatto un po' di cose Sì abbiamo fatto ancora di cinque minuti Hai capito Non devo andare per fare cinque minuti Anche di più Io vado giù a scavare per vedere se si scontrò Il carbone No vado io cosa vuoi fare Deve andare a chiudere la casa dentro Deve andare a chiudere la casa dentro Un po' di iso No Soltiamo la terra E c'è ancora la cadena di prima No Ragazzi lo stava con ferro eh Te la parlo Allora hai trovato una cosa di più? No Intanto metto a concere il ferro Qui Ma ragazzi cerchiamo qualche Ragazzi non c'è farlo 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 Va bene ragazzi Spero che questo video Mi sia piaciuto Noi ci vediamo al quarto episodio Che c'era domani credo E nulla Ciao